Sì, ho preso tutta la sala per compleanno mio, sì, ho preso pure il pianista, sì Sì, ce la vedete voi, la sala e il pianista Chi è? Bedoven? Sì, risotto alla grama dei cucci Sì, risotto alla grama dei cucci Sì, corteo, sì, corteo non autorizzato, sì, Q17, sì, sì, let's gare Sì, corteo non autorizzato, sì, let's gare Cabrera vuoi, Cabrera, Q17 Sì, risotto alla grama dei cucci Sì, risotto alla grama dei cucci